allenamento del martedì dei giovanissimi agli ordini di mister gabriele di felice ecco adesso hanno iniziato l'allenamento piccola corsa possesso di palla avanti e indietro pitbull luca caran nicola ecco che si sta riprendendo pure con il primo allenamento di gabriele dopo l'importunio partito partito tre domeniche fa ecco alessio che apre il gruppo qua c'è il nicolò nicola e l'ele ecco pitbull caran e gialluca teddy federico enrico luca emanuele bartolo e cristiano forse pitbull devi mordere domenica ecco bartolo ecco teddy bravo teddy vai ecco all'orizzonte si vede anche i pulcini di mister giulio c'è anche mister renato e la in fondo vicino alla porta c'è mister simone giordano ecco mister gabriele sta predisponendo i cinesini per creare un'area un'area delimitata dove i nostri ragazzi effettueranno gli esercizi che man mano indicherà il mister in fondo si vede michele gabriele con un nuovo alberto di arrivato ancora non so il nome ci fermiamo nel quadrato grande e recuperiamo ciao riuscine riuscine Grazie.